Consideriamo l'applicazione del dispositivo medico Equistasi in ambito sportivo. Per quanto riguarda il ciclismo, la prima cosa che facciamo quando un atleta si presenta nei nostri centri è la valutazione clinica posturale attraverso il fisioterapista. Successivamente il ciclista è sottoposto ad una valutazione strumentale attraverso un selino elettronico. Il selino è dotato di 52 sensori piezoresistivi e trasmetteranno il dato via wireless, quindi non abbiamo vincolo nel movimento. L'interazione dei dati clinici e strumentali ci darà la possibilità di mappare l'applicazione di Equistasi. Luca, 25 anni, si è presentato al nostro centro. L'interazione dei dati clinici e strumentali hanno evidenziato una particolare traslazione a sinistra della postura. Per cercare di riequilibrare la sua postura abbiamo deciso, assieme al fisioterapista, di posizionare tre Equistasi. Il primo nel gluteo medio di destra, il secondo nel tessore della fascia alata sempre di destra, il terzo nell'ischio crurale in sezione approssimale. Il confronto dei dati clinici e strumentali pre e post applicazione di Equistasi hanno evidenziato un riequilibrio della postura. Equistasi va oltre l'assetto biomeccanico perché mantiene la postura del ciclista nel tempo. Luca utilizzerà il dispositivo giornalmente e i miglioramenti verranno monitorati dal fisioterapista e dal tecnico. Grazie a tutti.